Francamente noi siamo amareggiati, certo non sorpresi, dello scarso senso istituzionale della Presidente della provincia Silvia Chiassai. Una Presidente che evidentemente confonde il ruolo monocratico che istituzionalmente la legge affide oggi all'ente di secondo livello provincia e al Presidente della provincia con la funzione autocratica che invece lei cerca di svolgere, che vorrebbe svolgere. Il gruppo consigliare del centro-sinistra a D'Arezzo non ha dubbi la Presidente Chiassai sta trasformando un ente pubblico in un regno personale, questo l'oggetto della conferenza stampa dei capigruppo. Cos'è che non va nelle commissioni? Le commissioni non ci sono, noi quindi chiediamo che vengano istituite, le commissioni servono a noi per capire in maniera approfondita le materie che poi vengono trattate, sulle quali ci è chiesta di deliberare. Dunque noi chiediamo proprio questo, distituirle e la Presidente inizialmente aveva detto che la legge del Rio non le consentiva di istituire le commissioni ma poi le abbiamo ricordato che lo stesso regolamento della provincia permette alla Presidente di scegliere di istituirle o meno e che appunto all'articolo sia 30 che 31 dice esplicitamente che le commissioni servono per andare ad approfondire le materie che poi saranno discusse, elaborate e poi deliberate nel Consiglio provinciale. Siamo rimasti annichiliti da come la Presidente tratta i consiglieri di minoranza in questo caso, perché secondo lei noi dobbiamo essere già edotti e già dobbiamo capire da quello che leggiamo tutte quelle che sono le sue intenzioni su quello che vorrà fare con i fondi del PNR. Ovviamente abbiamo bisogno delle commissioni con cui parlare, con persone che ci rispondono, che ci diano delle risposte perché noi siamo lì, perché rappresentiamo la provincia Arezzo e la sua provincia e rappresentiamo i cittadini, non ci dimentichiamo che ancora la provincia ha in mano le strade, le scuole, i ponti, infrastrutture che sono importanti. Poi c'è una cosa che era stata promessa e ancora non è stata attuata, quella la conferenza di Capigruppo. Sì, la conferenza di Capigruppo era stata già deliberata il 5 maggio del 2021 e la Presidente e l'amministrazione avevano dichiarato la disponibilità a istituirle nel più breve tempo possibile, ma ancora ad oggi non è stata istituita. Da oggi noi non faremo più sconti, scandaglieremo ogni singolo atto, non tollereremo più nessun atteggiamento di arroganza perché la regola base nel confronto tra istituzione è la correttezza e l'educazione. Atteggiamenti che purtroppo costantemente Silvia Chiasai dimostra di non possedere.